Tutto pronto per la riqualificazione di via Bernini a Pescara, ma soprattutto Blasioli nascerà la tanto attesa rotatoria in quell'angolo con via Caravaggio. Sì, domani verrà allestito il cantiere, l'impresa è un'impresa di Tagliacozzo, l'importo dei lavori di 90.000 euro con il circa 29% di ribasso. È un lavoro molto molto atteso perché non si tratta soltanto della rotatoria, si tratta di tutti i marciapiedi, quindi marciapiedi a norma su via Caravaggio, da via Tiepolo fino ad arrivare al parcheggio del Globo, quindi una messa in sicurezza prima di tutto dell'utenza debole. E poi anche questa rotatoria che è molto attesa dalla città, molto attesa anche in base ai dati dei sinistri stradali che ci sono stati forniti dalla nostra Polizia Municipale, che significa fluidificare molto il traffico tra via Bernini, via Caravaggio e il sottopasso ferroviario, ma anche rallentare la corsa degli autoveicoli in quell'incrocio e quindi mettere in sicurezza un po' anche l'utenza debole. Il tempo dei lavori è di 90 giorni, ma abbiamo già incontrato l'impresa, che è un'impresa come abbiamo detto di Tagliacozzo, già sta lavorando su Pescara e quindi presumiamo che molto prima dei 90 giorni di tempo si possa completare questo lavoro. L'amministrazione comunale che prosegue nei lavori nelle varie zone della città dopo la zona sud, ora vi state dedicando alla parte nord di Pescara. Alla parte nord dove ci saranno tra l'altro 1.300.000 euro di investimenti con i fondi delle periferie che saranno destinati proprio al quartiere cosiddetto di Zanni, una parte nord della città di Pescara che diventerà proprio centrale poi nella questione della grande Pescara perché tra Montesilvano e Pescara, quindi tra Montesilvano e il confine con Francavilla, la parte di Piazza Duca al confine con Montesilvano diventerà proprio il centro di questa nuova grande città.